Ieri è stata la prima giornata nella quale abbiamo aperto su due fasce orarie alla mobilità dei cittadini. Chiariamo che non siamo tornati alla normalità, era semplicemente un modo per dare respiro alle famiglie dopo due mesi di chiusura, ma non è il ritorno alla normalità e bisogna rispettare tre condizioni essenziali. La mascherina sempre, lavarsi le mani sempre, mantenere il distanziamento sociale, un metro e mezzo o due metri. Bisogna ricordare questi tre obblighi, sono tre obblighi, mascherina, lavaggio delle mani, distanza sociale, perché se si determinano nuovi assembramenti noi corriamo il rischio di vedere riaccendersi l'epidemia, quindi su questo bisogna essere estremamente responsabili, non bastano le ordinanze. se non c'è senso di responsabilità dei cittadini.